Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato una donna battipagliese di 33 anni, già nota alle forze dell'ordine per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Gli uomini del commissariato di pubblica sicurezza, in un servizio di appostamento effettuato nei pressi della residenza della 33enne, hanno notato alcune persone che, dopo aver citofonato, si sono introdotte nell'edificio per poi uscirne dopo pochi minuti. Prontamente gli agenti hanno fermato un giovane appena uscito dal portone, trovandolo in possesso di una bustina contenente cocaina. Nel corso della perquisizione domiciliare effettuata presso l'abitazione della donna, è stato rinvenuto un bilancino elettronico di precisione e 0,5 grammi di cocaina.